Dopo due mesi ritorna il traffico su via Aldomoro. Terminati i lavori che hanno interessato questo tratto? Sì, siamo stati bravi, soprattutto l'impresa, a completare i lavori prima del tempo preventivato. Noi avevamo pensato di riaprire il traffico veicolare sicuramente prima dell'apertura delle scuole, ma non ci aspettavamo di aprirlo oggi. Quindi va dato atto all'impresa che ha lavorato anche di sabato e di domenica perché ha compreso anche su nostra pressione che questa arteria significava un impedimento importante per i cittadini materani e anche per i numerosi turisti che arrivano in città. Quindi oggi siamo orgogliosi di poter consegnare l'opera in tempi da record per noi.